buongiorno fratello giuseppe allora io vorrei raccontarti una visione che l'ho avuta di recente da parte del signore ti chiedo te cosa senti da parte del signore a dirmi quello che io ho visto a farmi capire in parte ho capito ma non tutto mi vedevo ma vedevo moltissima gente moltissime persone centinaia di persone come uscivano di casa e andavano via in molte direzioni con le valigie e allora vedevo anche mio figlio vedevo anche alcune persone che conosco vedevo pure anche una mia vicina di casa grazie a gesù si è convertita anche lei era un po buio si sentivano i spari era una guerra si vedeva che tutta la gente era agitata spaventata mentre andavano praticamente tutti uscivano di casa non rimaneva nessuno nelle loro case piccole grandi tutti a un certo punto mi vedevo camminando su una strada a me ad alcune persone e camminando su quella strada arriva in un punto che ho visto due tre quattro strade alla fine mi sono fermata e lì ho iniziato a chiedere il signore quale strada devo prendere in questo momento perché erano molte strade molte direzioni allora ho visto delle scritte nel cielo che mi hanno fatto capire che devo prendere la strada giusta che era una strada a destra allora io ho preso quella strada con alcune persone erano poche quelle che erano con me e moltissima gente intorno sentivo come tu hai detto dei spari le bombe una guerra si sentiva come sparavano e allora io a un certo punto mi fermo vado davvero una specie di bosco una specie di non so come dirti dove le persone si nascondevano da quelle perché avevano paura li vedevo spaventati di uomini donne bambini allora vedevo me stessa che andavo e chiedevo vuoi pregare insieme a me pochi erano quelli che volevano pregare c'era Gesù e il resto anche se erano spaventati impauriti tutto non accettavano molti vedevo come avevano paura e dicevano adesso arrivano anche da noi insomma io mi vedevo come parlavo di Gesù anche in quella situazione molto non so come dire l'italiano cioè sembrava proprio che era proprio la fine la fine era brutto e allora quando ho visto che loro non vogliono cioè rifiutavano tutto pregavo solo con chi accettava alla fine ho dovuto prendere la stessa strada a un certo punto camminando dritto sulla strada io parlavo con Gesù e iniziai a essere anche io un po agitata però parlavo con Gesù mi vedevo proprio che camminavo e parlavo con Gesù alla fine vedo molte scritte moltissime scritte nel cielo non ho potuto leggere tutto perché erano così veloci solo alcune di loro ho potuto leggere una scritta molto grande che diceva così tutto questo si doveva adempiere perché c'era scritto e allora io in quel momento guardando intorno ho iniziato a dire a voce alta a tutti guardate guardate cosa sta scritto cosa signore ci fa vedere nel cielo ma forte gridavo intorno così che tutti potessero vedere potessero e poi ho visto come moltissimi hanno alzato gli occhi verso il cielo e moltissimi dicevano noi non vediamo niente pochissimi erano quelli che dicevano sì noi vediamo e leggevano anche camminando camminando vedevo sempre me stessa anche gli altri vedi che si apre un pezzo di cielo in quel momento io guardavo vedo questo pezzo di cielo un bel pezzo di cielo aperto e un angelo l'ho visto proprio chiaro anche se era molto in alto lo vedevo e guardavo e mi disse con voce molto non so come dirti non solo suave ma molto si vedeva che proprio dal cielo suonava così forte e mi diceva claudia tu non morai mi ha detto così proprio per nome mi ha chiamata e mi ha detto tu non morirai allora vedo come angelo ha chiuso il pezzo del cielo dopo che mi ha detto questa parola io ho continuato a camminare sempre sulla stessa strada vedevo disastri intorno a me distruzioni e poi camminando camminando di nuovo vedo un pezzo di cielo aperto e lì vedevo praticamente un'acqua così pura cristallina e anche le altre cose c'era qualcuno che mi spiegava cosa significa ma solo me mi spiegava poi ha chiuso il pezzo di cielo camminando camminando vedevo come aumentava la distruzione vedevo come aumentava di più le guerre come aumentava di più le paure era una situazione proprio terribile quello che stavo vedendo io continuavo a camminare insieme a queste poche persone le altre erano più lontani da me però li vedevo erano una centinaia e camminando camminando a un certo punto sento una tromba è proprio delle trombe dell'apocalisse in quel momento ho iniziato a gridare di nuovo a tutti in modo che loro sentissero perché non sentivano perché non dicevano niente allora iniziai a gridare forte sentite sentite come come suona la tromba non so se mi spiego bene scusa mio fratello e niente questi qua sembravano che non sentono sempre pochissimi sentivano senti seconda tromba dopo un po di silenzio senti di nuovo un'altra tromba io camminando sempre sulla stessa strada parlavo con gesù guardavo le persone parlavo con loro poi di nuovo senti un'altra tromba praticamente quando ho sentito un po di più non posso descrivere adesso quante sentire però so che quando ho sentito ultima tromba ho iniziato proprio a gioire ad essere felicissima in quel momento e li capì che il signore praticamente stava avvenendo ciao a tutti i cari fratelli e care sorelle allora c'è poco da interpretare in questa visione perché questa qui praticamente tutta una proiezione di ciò che avverrà di ciò che dicono le profezie di ciò che dicono le scritture che vuol dire proiezione sapete quando gesù disse in luca 10 versetto 18 di ovvi di satana a cadere dal cielo come una folgore ecco quello lì non è che bisognava interpretarlo era una proiezione che gesù ebbe di un evento che sarebbe accaduto in futuro un evento anche profetizzato dal profeta esaia no dove c'è la profezia su satana pisa capitolo 14 ma lo vediamo anche in rivelazione quindi apocalisse capitolo 12 il diavolo sarà cacciato dal cielo e neanche questo sogno questa visione non c'è molto interpretare perché è una proiezione di ciò che le profezie dicono e allora qual è la cosa più importante da capire in questo messaggio è che fratelli come diceva l'apostolo paolo 2000 anni fa e lo diciamo pure noi 2000 anni dopo secondo te sono dicesi capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 7 che cosa dice in sostanza che è riguardo al ritorno di cristo al nostro adunamento con lui quindi che cos'è che paolo sta dicendo a che evento paolo si sta riferendo la venuta del signor nostro gesù cristo e al nostro adunamento con lui è lo stesso paolo che scrive sempre in testa non cesi però prima epistola capitolo 4 e i versetti dal se andate a leggere fratelli dal 15 al 17 parla che quando gesù ritorna lui ritornerà come gesù stesso ha detto in mattio 24 da versetto 29 al 31 quando gesù ritornerà lui tornerà sulle nuvole del cielo e manderà i suoi angeli a rapire la chiesa e ci sarà un adunamento cioè incontreremo il signore nel cielo sulle nuvole no e quindi è di questo che l'apostolo paolo sta parlando il secondo te sono in cesi capitolo 2 allora dice nessuno vi inganni nessuna maniera versetto 3 perché dice quel giorno quale giorno il ritorno di cristo quindi l'adunamento con lui ravimento nessuno vi inganni nessuna maniera perché quel giorno non verrà se prima non sia stata manifestata l'apostasia l'uomo del peccato cioè il figlio della perdizione che sarebbe l'avversario che si innalza e si fa chiamare dio insomma l'anticristo secondo alcune sbagliate interpretazioni che proprio in questo paragrafo vengono estrapolate per esempio da versetto 6 e 7 dove dice che c'è chi lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo però quando io decide che il momento che sia manifestato ciò che lo trattiene sarà tolto di mezzo allora c'è questa sbagliata errata interpretazione che ciò che lo trattiene sia la chiesa e allora quando la chiesa sarà tolta di mezzo quindi il rapimento l'anticristo sarà manifestato ma questa è un'errata interpretazione assolutamente perché va in contraddizione con quello che allo stesso apostolo che scrive la lettera nello stesso paragrafo dice all'inizio nessuno vi ingani nessuna maniera perché quel giorno cioè il ritorno di cristo non verrà se prima non sia manifestato l'anticristo e allora come fa a manifestarsi l'anticristo mentre la chiesa è stata già rapita se invece paolo dice esattamente il contrario che gesù non ritornerà prima dell'evento della manifestazione dell'anticristo allora noi sappiamo in matteo 24 29 su parla della tribolazione dal versetto 15 dice chiaro fino al versetto 21 vi sarà una grande tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora ne vai più vi sarà vedete che la sorella in questa proiezione questa visione vede una grande devastazione che man mano che cammina è un più aumenta la devastazione gesù parlava di una grande tribolazione e poi gesù alla fine fa dei discorsi di stare attenti ai falsi profeti eccetera insomma poi arriva dove parla del suo ritorno ecco siamo qui al versetto 21 c'è chi si chiede ma rapimento quando sarà prima dopo durante perché c'è chi dice dopo c'è chi dice prima c'è chi dice durante addirittura gesù dice versetto 29 dopo la tribolazione di quei giorni poi continua a parlare il figlio dell'uomo ritornerà sulle nuvole mandare sui angeli per il rapimento quindi quando prima o dopo dopo la tribolazione dice gesù ecco perché vedete che queste trombe che la sorella sente suonare noi vediamo che in apocalisse vi sono sette trombe non riesce a contare quante trombe più o meno ha sentito però noi sappiamo che saranno sette trombe perché perché lo dice apocalisse allora dice quando io sento però l'ultima tromba sento una grande gioia ecco perché perché l'ultima tromba è quella del ritorno di cristo dove lo dice primo corinzi 15 da versetto 51 52 parla del ritorno di cristo del rapimento che dice tornerà al suono dell'ultima tromba e allora noi in apocalisse abbiamo sette trombe l'ultima tromba apocalisse 11 15 è la tromba del ritorno di cristo quindi attenzione se voi leggete le prime sei tromba che sono apocalisse 8 e 9 questi eventi sono prima del ritorno di cristo nessuno vi ingani nessuna maniera la chiesa attraverserà la tribolazione perché noi siamo destinati la chiesa è destinata alle tribolazioni no atti 14 22 attraverso molte tribolazioni entreranno il regno dei cieli primo tesano i cesi 3 versetto 3 ma non facciamo confusione tra l'ira di dio e la tribolazione la tribolazione non è mai stata l'ira di dio ma chi tribola la chiesa è sempre stato satana d'accordo quindi l'ira di dio è un'altra cosa l'ira di dio non è per la chiesa ma per il mondo ribelle infatti giudizi di dio non potranno cadere sulla terra finché c'è la chiesa appunto i suoi figli ma dopo il rapimento secondo anche le profezie allora potranno cominciare i giudizi di dio sulla terra che sono le sette coppe che iniziano da apocalisse capitolo 15 però le sette trombe sono relative a la tribolazione e quindi la tribolazione che cos'è e non è altro che l'ira del diavolo l'ultima grande persecuzione di satana alla chiesa prima del grande e glorioso ritorno di gesù cristo e amen quindi nessuno vi inganni in nessuna maniera con nessuna epistola consiglia scrittura come se venisse da dio come se venisse dallo spirito santo perché le scritture parlano chiaro la chiesa attraverserà la tribolazione fatti parentesi ancora su questo discorso qui metterò nella descrizione del canale un link dove parla uno studio tutto dettagliato sulla grande tribolazione insegnamento dal vecchio nuovo testamento dove parla del ritorno di cristo perché la bibbia dice chiaramente sarà dopo la grande tribolazione d'accordo in apocalisse 7 giovanni vede una grande folla una visione se andate a leggere dove chiede chi sono questi da dove vengono e l'angelo gli dice questi qua sono quelli che hanno avuto loro vesti sono quelli che vengono dalla grande tribolazione che non hanno adorato la bestia non hanno preso il suo marchio e ha una visione anche dei martiri della grande tribolazione che in apocalisse 20 versetto 4 dove dice che questi qua non hanno adorato la bestia non hanno preso il suo marchio e sono stati uccisi per questo allora noi vediamo che apocalisse 13 usate fratelli vado un po veloci ma voi potete verificare queste scritture alla fine del capitolo 13 apocalisse parla del marchio della bestia che obbrigherà tutti dice piccoli e grandi e quelli che non lo prenderanno saranno praticamente uccisi o cercheranno di ucciderli noi sappiamo che ci saranno dei martiri però non tutta la chiesa sarà martirizzata perché dobbiamo capire che il piano di dio non è che il diavolo ha vittoria ma è il contrario la chiesa avrà vittoria sul diavolo sull'anticristo e sul marchio della bestia e amen che vuol dire avere vittoria non prenderlo anche a costo di morire però noi vediamo che in apocalisse 12 parla di una protezione speciale per la donna che vola nel deserto per esservi nutrita e protetta per 1260 giorni che sarebbero esattamente 42 mesi tre anni e mezzo di cui apocalisse 13 5 l'anticristo avrà potestà di operare d'accordo quindi quelle tre anni e mezzo 42 mesi sono il pa durata della grande tribolazione ok quindi gesù ritornerà alla fine alla fine quindi dopo la grande tribolazione fratelli e nessuno vi inganni in nessuna maniera amen allora come ci dobbiamo comportare come ci dobbiamo preparare vedete che in questa visione la sorella vede che prima di andare su questa strada che poi lei racconta tutto ci si trova davanti a un bibio con tre quattro strade diverse allora quale strada vedete che lei dice ho pregato il signore poi ho preso la strada ecco è l'importanza di consigliarsi di chiedere a dio come mi devo muovere perché bisogna sicuramente spostarsi fratelli uscire sicuramente dalle zone urbanizzate dalle zone tecnologizzate abbiamo visto anche con l'avvento della pandemia a un certo punto all'improvviso siamo tutti rimasti bloccati quindi è un esempio è un addestramento è stato il covi va bene anche col discorso del passaporto che senza passaporto non potevamo muoverci per niente è un po come come una sorta di premarchio della bestia sarà così fratelli allora è stato un addestramento una prova l'anticamera di quello che sarà perché se prima senza una determinata siringa non si poteva né lavorare né fare niente dopo senza il marchio della bestia fratelli non si potrà fare proprio nulla e allora bisognerà trovarsi in un luogo dove dio proteggerà come vedete anche la sorella cammina mezzo al caos per un certo senso è protetta rappresenta anche la protezione della donna apocalisse 12 che non è tutta la chiesa perché è una particola chiesa che sarà protege quelli che sono diciamo nella volontà di dio perché quelli che non saranno la volontà di dio sono quelli che dice apocalisse 13 5 e anche alla fine di apocalisse 12 che poi va con le profezie di daniele che l'anticristo distruggerà i santi farà guerra ai santi e li vincerà d'accordo apocalisse 13 5 fino al 7 che è un parallelo di daniele 7 21 e versetto 25 scusate fratelli vado veloce però voi potete controllare questi passi nella bibbia e controllate per favore contro la verificate siate come i fratelli bereani di berea che controllavano ciò che veniva detto se le cose stavano così nelle scritture e allora l'importanza dicevo di consigliarsi con dio cosa fare in questo tempo della fine perché un'altra cosa mi ha colpito di questa proiezione questa visione è che tanta gente non vedeva le scritte che lei vedeva cosa vuol dire ecco qui occorre un po di interpretazione cosa significa è che la gente comune ma anche nel mondo cristiano purtroppo nessuno si rende conto e nessuno osserva nessuno capisce i segni dei tempi che sono sotto i nostri occhi nessuno se ne cura nonostante ci sono quelli come la sorella che chi sono questi qua sono diciamo i figli di dio quelli che annunciano profetizzano queste cose non li ascoltano non li vedici noi non vediamo quello che vedi tu non crediamo che succederanno queste cose sapete quelli che rispondono in questa maniera quindi l'importanza di sapere cosa fare quindi consigliarsi con dio come la sorella dice mi trovo davanti a tre quattro strade è cominciato a pregare tensione la guidata ad andare in una strada quindi qual è la strada della volontà di dio è la strada del piano di dio e vediamo che importantissimo nella bibbia anche vediamo in primo samuel per esempio capitolo 23 quando davide era perseguitato a saul chiedeva dio se lui dovesse andare in quella città o in quel posto non dovesse andare lui si consultava con dio anche per esempio secondo samuel capitolo 2 voglio leggere il versetto 1 che è molto eloquente molto chiaro dice dopo questo davide consultò il signore disse devo salire in qualunque della città di giuda il signore dispose sali e davide chiese dove devo andare e il signore disse a ebron ecco quindi cosa voglio dire voglio dire l'importanza di consultare il signore come ci dobbiamo muovere dove dobbiamo andare cosa dobbiamo fare bisogna pregare fratelli e si dirà vai a destra vai a sinistra vai in quella posto vai in quella nazione o vai in quella regione eccetera ecco l'importanza di consigliarsi al signore quindi con questo vi saluto e vi abbraccio tutti nessuno ripeto inganni in nessuna maniera fratelli perché ci solo diceva lì mattia 24 se qualcuno vi dice che il cristo è la e nel segreto nelle stanze segrete non ci credete cioè se qualcuno vi dice che ci sarà un rapimento segreto che gesù ritorna il segreto non ci credete perché apocalisse 17 dice che ogni occhio lo vedrà ogni occhio non ci sarà un essere vivente che non vedrà il ritorno di cristo addirittura anche quelli che lo trafissero di solo guardano trafitto gli ebrei sì ma quelli 2000 anni fa che sono nell'ades anche loro lo vedrà perché gesù ritornerà e lo vedranno tutti in cielo in terra e sottoterra e allora amen e soprattutto quando prima o dopo la tribolazione matteo 24 29 dopo la tribolazione di quei giorni eccetera eccetera gesù ritornerà dice sulle nuvole rapirà attraverso i suoi angeli che manderà la chiesa amen gloria a dio dio benedica fratelli e un abbraccio il signore amm Grazie a tutti.